Johansson l'ha levata perché arriva il capitano alza la coppa capitano alza la alta al cielo capitano perché questa è la coppa di tutti gli italiani perché oggi grazie a voi abbiamo vinto tutti alza la alta perché oggi è più bello essere italiani alza la alta capitano abbiamo vinto tutti grande, grandissimi ragazzi bravi, bravi a tutti non ho altre parole e adesso seguiteci ancora un po' e poi uscite per strada e fate sentire a tutti cosa vuol dire vincere un mondiale in Italia e poi andatevi a prendere all'aeroporto e festeggiare con loro perché se lo meritano se lo meritano davvero